Ciao ragazzi siamo tornati qua in questo nuovissimo video per tornare a parlare del Novara Abbiamo tanta carne al fuoco, abbiamo tanto di cui parlare oggi Iniziamo dagli allenamenti Lunedì sono iniziati gli allenamenti, siamo andati a seguire il primo allenamento del Novara FC Che è iniziato all'incirca alle 4 e mezza, 4 e 40 del pomeriggio E' durato due orette, ci sono stati tanti applausi per Pablo e anche per il nuovo allenatore Marchionni C'erano circa 30 giocatori, credo 27 contando anche i tre portieri Di cui alcuni in prova Tra ex giocatori del Novara c'era ovviamente Bergamelli che sarà pilastro della difesa Bortoletti che è tornato a Novara dopo la scorsa stagione Che molto probabilmente sarà titolare lì in centrocampo E c'è stata una prima parte, circa un'oretta di preparazione atletica Dove la condizione non era ottimale, era il primo allenamento E sarà difficile essere pronti in una settimana Per l'impegno che ci sarà domenica di cui parleremo E per due settimane per l'inizio del campionato di Serie D Di cui poi parleremo di tutto Poi ci sono andate delle prove per la tattica offensiva Marchionni giocherà con un 3-5-2, si è visto subito Le due punti davanti dovranno dialogare molto Quindi ci sarà una punta di riferimento, una che girerà intorno alla punta Infatti ha provato anche Gonzales per era insieme Per era alto, molto più fisicato Gonzales con un piede migliore che può girare attorno alla punta Si è provato il giropalla, poi i lanci lunghi per l'inserimento dei centrocampisti O delle stesse punte, comunque avete bene visto tutto nel vlog del primo allenamento Gli allenamenti sono continuati Dovrebbero esserci due sessioni Una alla mattina, una al pomeriggio sempre verso quell'ora lì Perché alle due ancora fa un caldo pazzesco E quindi bisognerà farsi trovare pronti per l'esordio che ci sarà domenica Domenica alle 15 al Piola Il preliminare di Coppa Italia Serie D È una competizione per il Novara Nuova ovviamente E contro sarà subito un derby E vedremo quanto sarà sentito questo derby contro la Roche Ed è gratis, la buona notizia è che è gratis E basta andare lì in mattina o nel pomeriggio Prima delle 17 con il Green Pass per prenotare il posto Il posto, dicono che ci siano 500 posti disponibili Vediamo quanti saranno E vediamo, sono molto curioso della risposta che daranno i tifosi Io personalmente se riesco vado al 100% Perché comunque alla fine sarà pure una partita di preliminari della Coppa Italia Serie D Però è un anno e mezzo da Novara Gozzano 4-1 con doppetta di Bubba Che non vado al Piola a vedere una partita Sono andato a vedere una mica vuole all'inizio l'anno scorso contro la Juventus Andare 19 Ho visto l'allenamento Però il clima che c'è comunque in una partita Che non avrà l'importanza di Novara Padova a playoff per andare in A Però è pur sempre una partita del Novara È la prima partita del Novara FC Tra l'altro Novara FC che ha creato i propri social Instagram, Facebook, Novara Football E parliamo del logo L'avrete sicuramente visto Adesso sto prendendo l'immagine per commentarlo È un bel logo È un bel logo con una bella scritta Anche abbastanza moderno Perché c'era un logo simile Però si vedeva che era più antico Questo secondo me è anche un logo È un logo modello Bello i colori Le sfumature nei colori anche nel rosso E nell'azzurro Che poi diventa blu nell'esterno È secondo me un bel logo Quindi l'esordio è Novara FC Roche Roche Ticino E sono stati ufficializzati anche i calendari E soprattutto il girone Adesso vado a prenderlo Siamo capitate con tutte le squadre Liguri Il Ponte Donnanz Che è una squadra del Valle d'Aosta E qualcuna della Lombardia Tra cui Varese Allora Asti, Borgossese, Abra, Casale, Chieri Dertona, Fossano, Gozzano, Novara Pdhe RG Ticino Saluzzo, Imperi, Lavagnese Ligorna, Sanremese Sestri, Levante Vado, Caronnese Varese Alcuni mi hanno chiesto Quali sono le squadre più forti Le squadre più temibili Permettendo che il Novara è una grande incognita Che sì, sta contattando giocatori importanti Però è pur sempre una grande incognita Le squadre più temibili sono Il Bra Che l'ultimo anno ha fatto abbastanza bene Ovviamente il Casale Una nobile Il Gozzano Che l'anno scorso era andato in C Poi non è riuscito ad iscriversi in C La Roce Però bisogna stare attenti a queste squadre Perché non sono da sottovalutare La Serie D è un campionato ancora più equilibrato della Serie C E il Varese ovviamente è una squadra temibile Anche la Sanremese Che comunque è da anni che gioca in Serie D E da anni che comunque i playoff li c'entra quasi sempre Quindi su squadre temibili ovviamente sale la prima E poi credo che le altre sette classificate dopo la prima Vadano a fare i playoff Queste secondo me sono le più temibili Sono le più temibili Si inizierà con Novara Asti In casa il 19 Quindi non c'è nessun rinvio per il Novara Si gioca subito il 19 tra due settimane E dovremo farci trovare pronti Sarà difficile soprattutto per quanto riguarda il piano fisico La tenuta fisica Però si inizia subito Novara Asti E poi adesso non so se vi leggo tutto il... Vabbè dai Facciamo il calendario La prima contro l'Asti La seconda a Borgosesi La terza in casa con il Varese Il 3 ottobre La quarta giornata a Imperia La quinta in casa contro il Bra La sesta contro il Ligorna La settima il derby di campionato contro la Roce L'ottava a sesta rilevante La nona in casa contro il Vado La decima a Sanremo Undicesima contro il Casale in casa Poi contro il Caronnese In casa con il Saluzzo In Valle d'Aosta contro il Ponte Donnans In casa con la Lavagnese A Fossano In casa contro Gozzano e Chieri Poi si chiude il 9 dicembre Il giorno d'andata con Dertona-Novara-FC Ci sono tante trasferte fattibili Ci sono tante trasferte fattibili Anche Dertona non è distante A parte quelle in Liguria Anche quelle a Caronnese È fattibile Borgosesi A Roce Ozzano Tutte trasferte veramente vicine Dove ci saranno degli stadi Che settore ospiti ci sarà Molto molto piccolo suppongo Quindi questi sono i gironi Per quanto riguarda il calcio mercato Adesso in questi giorni Vengono tesserati I giocatori che abbiamo visto Anche nei primi allenamenti Il sogno per l'attacco è Vutai Attaccante che l'anno scorso Con i Rimini in Serie D Ha fatto 20 gol Bomber di categoria Serve un attaccante di esperienza Non possiamo basare tutto il nostro attacco Su Perera Per Gonzales non sarà una vera punta Serve un centroavanti Che ti garantisca 20 gole O comunque devi avere un sostituto Non si può giocare solo con due attaccanti E ci hanno dato una deroga Il nostro calcio mercato Sarà fino a 16 settembre Così riusciremo È stata accettata la richiesta Dalla FIGC Quindi riusciremo a prolungare Il nostro calcio mercato E vedremo un po' Cosa succederà Comunque Per la prima di campionato La squadra dovrebbe essere Al completo E altre notizie non ci sono Io direi di chiudere qua E Cercherò di andare allo stadio Domenica Perché anche se non sarà una partita Di grandissima importanza Sarà una grande emozione Tornare a vedere Il Novara Che sia serie A Che sia serie B Che sia serie C Che sia serie D Che sia preliminare Della Coppa Italia Serie D È sempre una Un'emozione È sempre bello Andare a vedere il Novara